Alla fine per la classifica è un Parigi che accontenta la San Maurese e non il Fiorenzola. Attenzione, la squadra di Protti fa la sua onesta partita e su un campo difficilissimo ottiene meritatamente un punto prezioso che muove, seppur a piccoli passi, i propri andamenti stagione. Il Fiorenzola ha nell'arma del fraseggio un bene prezioso da mantenere, le prime battute in match mostrano un possesso palla prolungato, peccato che la quinta in partita non venga mai inserita se non in occasione del gol del momentaneo vantaggio, quando al sedicesimo Arondini, servito da Tognoni, sulla destra vince un rimpallo in area di rigore, trovando il pertugio giusto che infila l'estremo ospite Maniglio. Il vantaggio del rossoneri dura lo spazio di appena 5 minuti, quando al ventunesimo la San Maurese realizza un'azione simile al vantaggio subito, l'asse Gurini-Nicoli produce l'involontaria deviazione alla propria porta ad opera di Cavalli, Battagliola può solo raccogliere la sfera alle proprie spalle. Prima dei rompetti le righe il Fiorenzola tenta a calcio piazzato con Bruschi di sorprendere Maniglio per il portiere una comoda chiamata. Nella ripresa dopo 20 minuti di noia c'è uno squillo che porta la combinazione Scarponi-Yesi con l'attaccante che alza la mira. La partita è a vara di emozioni, arrivano diverse discesse che portano attraversioni smistate al centro dell'area di rigore. Qui Bruschi prova ad approfittare non riuscendo nel suo intento. Stessa cosa dicasi di Esposito che infilato in area avversa nel tentativo di girarsi favorisce l'inserimento di Oneto, il quale vede sbarrata la propria strada da Maniglio. Esposito a questo punto si trasforma in assistman, ma per Seu non arriva all'appuntamento con la rete. La San Maurese reagisce distinto, Jessi tenta i go della domenica, ma ne viene fuori un passaggio in direzione Battagliola. Dall'altra parte, Cavalli per Guglieri. La difesa ospite riesce a salvarsi in qualche modo, ma se vogliamo parlare proprio di azioni, questa risulterà l'unica convincente dell'intera ripresa. Bruschi tenta la solo personale, mette la quinta, fa ciao ciao agli avversari, ma spedisce al lato. L'ultimo assalto porta l'ennesima discesa dei padroni di casa, Cavalli per Guglieri per l'inserimento, sottoporta tardivo di Tognoni. Termina qui una partita che si stabilisce sul segno X già dalle prime battute. Il Fiorenzola chiude l'anno al secondo posto in classifica, aspettando i recuperi delle altre, mentre la San Maurese si staziona al quintultimo posto della gradatoria.